completiamo la trattazione dei pronomi e aggettivi dimostrativi che avevamo iniziato con ille illa illud lo faremo servendoci di una storia sempre legata alla civiltà romana in particolare al rito di passaggio dall'infanzia all'età adulta quando si diventava adulti nell'antica roma e in che modo siamo nel 221 avanti cristo i protagonisti della storia che vedremo sono publius cornellius scipio pater publius cornellius scipio filius il futuro africano che ha compiuto 16 anni e si appresta a entrare ufficialmente nel mondo degli adulti dei cives romani il senatore lucius emilius paulus che i due publi padre e figlio incontreranno nel foro e infine la bella emilia figlia del senatore davanti all'edicola dei lari gli dei protettori della casa la famiglia di publius è riunita per assistere al rito che segna il passaggio di publius all'età adulta il padre dà voce al sentimento comune dichiarando che si tratta di un giorno felice letus dies nobis est è un giorno felice letus per noi publius noster il nostro publius puer iam non est non è più non è più un bambino il padre invita a questo punto il figlio a togliere bullam istam a togliere letteralmente codesto amuleto bulla bulle è un amuleto portato dai bambini fin dalla nascita fin dalla tenera infanzia che serviva a proteggerli dalla da eventuali diciamo così disgrazie sfortune eccetera perché la mortalità infantile nell'antica roma era altissima in questa vignetta troviamo il primo dei pronomi aggettivi dimostrativi di cui parleremo che iste ista istud che abbiamo tradotto con l'italiano codesta bulla cioè codesto amuleto ma che possiamo tradurre anche con quello subito dopo il ragazzo si spoglia della toga puerilis che aveva indossato sin da piccolo day in publius togam puerilem exuit poi publius toglie la toga puerilem lucio il fratello minore non capisce il senso di quel gesto e chiede se per caso publius senta caldo non calet publius forse publius ha caldo la madre pomponia gli spiega che publius in realtà si è spogliato di quella toga per indossarne una diversa da adulto non calet luci non ha caldo o lucio ex hoc die a partire da questo giorno hoc die ille lui letteralmente quello rivolto al fratello maggiore togam virilem sumit indossa la toga virile grazie a tutti grazie a tutti